Poi io mi sono permesso di andare un po' a curiosare nel passato di questi nostri bravissimi artisti che sono in gara ogni venerdì sera e sono tornato per quanto riguarda Massimo Di Cataldo un po' indietro nel tempo al 1996. Quanti anni avevi nel 96 Massimo? Sono del 68, facciamo prima. Eri un ragazzino, eri un ragazzino. E ovviamente tu eri profondamente legato a una persona che era tuo papà. Sì, molto. Molto. E la canzone che interpreta tra poco Massimo non è stata scelta a caso. Guardate, guarda Massimo. Signor Antonio Di Cataldo, venga qua. Allora, signor Antonio, io so che lei è arrivato ad un concorso secondo dopo Baglioni, ma per pochissimi voti. Quindi vuol dire che lei canta molto bene, vero? Ma l'ha raccontato lui. No, no, io no. Lei non si preoccupi, lei non si preoccupi. E per la prima volta cantano insieme Massimo e Antonio Di Cataldo. I Di Cataldo ne è il mondo! Oh, no, no, soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e sono niente accanto a te. Il mondo non si è fermato ma un momento, la notte segue sempre il giorno, ed il giorno verrà. Lì c'era anche la tua mamma, e penso che sono sicuro che loro sarebbero orgogliosi nel vedere te che ti rimetti in gioco a distanza di tanto tempo. Credo anch'io. Grazie. La canzone è una canzone bellissima, Jimmy Fontana, per Massimo ha un significato, come avete visto, particolare. E quindi noi l'ascoltiamo, tra l'altro c'è il cameo di Patti Pravo, che è pronta, e quindi in gara Massimo Di Cataldo con il mondo. No, stanotte amore, non ho più pensato a te, ho aperto gli occhi per guardare intorno a me, e intorno a me girava il mondo come sempre. Gira il mondo, gira nello spazio senza fine, con gli amori appena nati, con gli amori già finiti, con la gioia e col dolore della gente come me. Gira il mondo. 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 Grazie a tutti.